Nuovo incontro tra i commercianti di Polla e il sindaco Rocco Giuliano in merito al caso Soget e alle cartelle esattoriali sulle pubblicità. L'incontro si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel municipio alla presenza anche di tutti gli altri consiglieri di maggioranza e per l'opposizione di Fortunato Darista e Raffaele Camardella. Presenti anche alcuni legali dei commercianti. Il problema resta sempre lo stesso, le richieste da parte della Soget ritenute non conformi a quanto previsto. All'incontro non ha partecipato alcun rappresentante della Soget. Il sindaco Rocco Giuliano ha rassicurato nuovamente i commercianti con la premessa che il suo ruolo di amministratore prevede la tutela dei cittadini ma anche il dover vigilare sul pagamento delle imposte. Ma laddove ci saranno delle incongruenze occorrerà intervenire, ha detto Giuliano. Il primo cittadino ha rivelato di aver più volte negli ultimi giorni provato a contattare i vertici della Soget e ha poi esposto cosa verrà fatto nei prossimi giorni per tentare di risolvere il problema. Nelle prossime ore faremo una delibera per sospendere i termini di riscossione delle cartelle esattoriali in questione. Dopodiché riedigeremo un nuovo regolamento, ancora più dettagliato in Consiglio Comunale e alla presenza di una delegazione di commercianti. I commercianti, in base a questo, potranno decidere quali insegni esporre e denunciarne le dimensioni. Se la Soget vorrà effettuare i rilievi, lo rifarà. E poi il sindaco si è occupato delle sanzioni che, in concreto, hanno fatto lievitare le richieste esattoriali. Chiederemo che vengano eliminate. Inoltre, le spese di spedizione delle varie cartelle saranno a carico della Soget. Il primo cittadino ha parlato anche dell'ICI sui terreni agricoli. C'è stato un difetto di comunicazione tra Soget e uffici comunali. Verrà rimediato anche questo aspetto. Nei prossimi giorni si capirà se la strada intrapresa potrà risolvere le problematiche.